Ciao a tutti, ciao a tutte e benvenute sul canale, sul mio canale, io sono Morgana e questo è il canale di Morgana e le sue carte. Allora, prima di iniziare con l'interattivo di oggi, volevo aprire e chiudere una parentesi. Mi riferisco alle mie, diciamo, esimie colleghe che vengono in modo inappropriato e inopportuno a scrivere dei commenti per farsi pubblicità e per, diciamo, come si dice, vanificare le mie letture descrivendo le carte come le interpretano loro. Se hanno tanta voglia di fare questo tipo di servizio, di fare la lettura delle carte, che si aprissero un canale e si mettessero anche loro, diciamo, su piazza a fare, diciamo, chiamiamolo questo tipo di lavoro. Io dico semplicemente che potrete avere quel paio di minuti di notorietà perché io appena mi accorgo del messaggio che proprio è prettamente inappropriato, io blocco, scrivo anche la risposta anche un pochettino, chiamiamola così, pesante ma non fuori luogo, scrivo questa risposta e blocco completamente perché se avete tanta voglia, allora immettetevi voi sulla piattaforma e piano piano crescete come sto facendo io e come stiamo facendo in tante, senza bisogno di andare a scavare oppure ad interferire nei progetti e nei lavori degli altri. Chiusa parentesi. Oggi andremo a fare un interattivo che è sempre molto, molto richiesto, soprattutto nelle mail, quelle che mi scrivete in modo personale e ringrazio tutti perché siete veramente tanti. L'interattivo di oggi ha come titolo Come sta con l'altra donna o come sta con l'altro uomo? Io parlo sempre a femminile ma diciamo che il video è al maschile, al femminile e per lo stesso sesso perciò diciamo che io nel titolo metto come sta con l'altro o con l'altra ecco il titolo è diciamo sempre approssimativo però diciamo che è una situazione a tre, chiamiamola così e in questo interattivo andremo a vedere la persona che a voi interessa come sta con l'altra questo può essere rivolto sia a donne sposate che sanno che la persona voglio dire allora sia a persone che già hanno una situazione sentimentale ben instaurata e sanno che c'è qualche cosina al di fuori sia anche a diciamo persone che sono già al di fuori e vogliono sapere come va la situazione con la coppia già stabile spero di essermi spiegata ma allora innanzitutto andremo a prendere le carte di energia e poi andremo a vedere prima di fare le vere e proprie letture con le varianti andremo a vedere che tipo di persona abbiamo davanti che tipo di persona è quella a cui stiamo rivolgendo il video per avere su per giù un'idea se è la variante adatta a voi oppure se la dovete cambiare le varianti come vedete sono sempre là pietra arancione, pietra rossa e pietra azzurra scegliete quella che più vi piace prendetevi tutto il tempo che volete mettete in pausa il video se avete bisogno un pochino più di tempo e io inizio a scegliere le energie prima di tutto da mettere sotto ogni variante andiamo a vedere come sta con l'altra persona che sentimenti prova, cosa vorrebbe fare vediamo che cose ci dicono le carte variante 1 variante 2 e variante 3 queste le mettiamo di qua oggi poi andiamo a vedere un angelo del cuore appunto perché parliamo di sentimenti e adesso una di queste qui ok perfetto adesso iniziamo subito con la variante numero 1 spostiamo queste e andiamo, vediamo un pochino spostiamo anche gli oggettini per dare più spazio qui la vedete bene? sì perfetta iniziamo subito con le ragazze che hanno scelto la variante arancione la numero 1 però prima di prendere le energie che metto qua voglio vedere con questo tipo di carta se riusciamo a capire che tipo di persona è e potremmo prendere anche una carta dei tarocchi vediamo un po' vediamo che tipo di persona è allora innanzitutto qui le carte già mi dicono che è una persona sposata è una persona sposata una persona impegnata perciò il video che cioè scusate la variante che noi andremo a fare è rivolta ad una persona già impegnata già sposata e a quanto dicono queste carte voi dovreste ricevere da questa persona un messaggio perché diciamo che il matrimonio di per sé è un matrimonio che va alla grande è un matrimonio che non non dovrebbe presupporre che ci siano delle difficoltà in questa coppia perché abbiamo la gran fortuna il matrimonio e il messaggio perciò diciamo che questa persona che sia uomo che sia donna a cui voi state rivolgendo questo questo video sicuramente è già una persona impegnata quanto meno anche se non è sposata comunque ha una convivenza oppure ha anche come dire una relazione stabile da tanti e tanti anni ecco voi quando li vedete in giro li vedete abbastanza affiatati li vedete abbastanza in intimità li vedete abbastanza in confidenza diciamo che niente farebbe presupporre al fatto che diciamo la persona interessata a questo a questa variante abbia una relazione con voi però quello che vi voglio dire è che in questo momento grandi problematiche proprio in questa coppia io non ne vedo vediamo un po' un bivio andiamo a vedere tutte le carte relazioni delle vite passate è principe d'inverno intellettuale determinato concentrato impulsivo cerca una relazione logica al problema una soluzione logica al problema è necessario agire velocemente e con decisione cambiamenti improvvisi ed inaspettati allora qui secondo me c'è qualcosa sotto perché qua parliamo di un messaggio che vi deve arrivare problemi in questa coppia io non ne vedo c'è un bivio vite passate intellettuale allora io non vorrei scoraggiarvi però diciamo che le carte mi fanno presupporre senza ancora fare la variante che la persona diciamo che vi interessa sta talmente bene con la sua persona attuale che non secondo me ha intenzione di rompere la relazione che ha con voi e qui siamo davanti ad un bivio perché sta proprio decidendo di interrompere proprio ci sta pensando e abbastanza concentrato e determinato a questo cambiamento inaspettato nei vostri confronti ecco perché il messaggio che vi arriverà diciamo diciamo che non non vedo che che con voi abbia una grande una grande voglia di continuare ecco chiamiamola così vediamo un po' che cosa ci dicono le carte vediamo vediamo oddio è saltato fuori allora diciamo che quello che vi posso dire è che qua abbiamo a che fare con un giovane Bruno abbastanza diciamo pimpante ecco come dire abbastanza diciamo audace cioè lui si butta in tutto nel lavoro va bene fa tanto sport è sempre una persona molto attiva e molto dinamica per diciamo cercare di capire a quale gruppo di persone che stanno seguendo il video può essere indirizzata la variante in modo che magari non perdete tempo e se non vi rispecchiate non vi rivedete potete cambiare la variante allora ricapitolando qui abbiamo a che fare con un uomo sposato o convivente o che ha una relazione da abbastanza tempo che si trova abbastanza bene nella sua vita di coppia però ha instaurato con voi una relazione questa relazione nella sua mente è giunta alla fine al termine e ha intenzione in questo momento di prendere la decisione e mandarvi questo messaggio le caratteristiche di quest'uomo mi fanno vedere le carte che un uomo Bruno dovrebbe a girarsi diciamo 30-40 anni circa che è molto diciamo attivo sia nel lavoro sia nella società sia con gli amici diciamo che lui non ha grandi problemi ecco lui non lui è sempre vicino alla moglie vedete qui lui è sempre vicino alla compagna e insieme a questa compagna che ha da lungo tempo o la moglie che sia si trova bene cioè lui non solo si trova bene a livello emotivo non solo si trova bene a livello intellettuale emotivo sentimentale ma si trova bene anche a livello economico perché forse lavorano insieme forse lei ha un lavoro redditizio lui anche lavora non voglio dire che grava sulle sue spalle però diciamo che gli fa molto piacere il fatto che la moglie o la compagna che sia abbia questo questo lavoro che gli fa vivere una vita abbastanza agiata vediamo l'esito l'esito è sempre che lui è molto diciamo attivo nella società nella famiglia negli amici non ha grandi grandi problemi lui ha proprio una stabilità infatti vedete è seduto tranquillo non ha grandi problemi non ha grandi problemi né nella famiglia né negli amici perciò tutto quello che lui ha in questo momento di sicuro non lo vuole perdere per voi infatti qui abbiamo a che fare con una situazione che lui è convinto e sicuramente sa di che cosa lui è convinto perché sa con chi ha a che fare nel senso è sicuro che se venisse fuori la storia che ha con voi se venisse alla luce la relazione che ha instaurato con voi lui perderebbe tutto quello che è riuscito a costruire oggi infatti se voi vedete questa forma di come posso dire questa forma di concretezza economica si rifà a queste due carte dell'inizio perciò lui sicuramente quello che è riuscito ad acquisire quello che è riuscito a guadagnarsi fra il suo lavoro e fra quello che ha portato la compagna la moglie e quello che gli porta di sicuro non lo vuole perdere per una scappatella come intende lui infatti lui qui non vuole assolutissimamente arrivare ad essere costretto ad come dire non vuole essere costretto a dover confessare la sua relazione perché nell'aria sicuramente c'è il sentore che qualcosa potesse può venire a galla non so magari qualche amico ha cominciato a fare qualche battuta magari qualche conoscente in comune con la compagna ha visto ha intuito qualcosa e perciò lui ha paura che si ritrovi a dover confessare alla moglie diciamo così alla moglie di dover confessare alla moglie che ha una relazione con voi perciò in questo momento lui non ha assolutissimamente intenzione di perdere o di arrivare poi a dover avviare una separazione e perdere tutto ciò che ha conquistato perché mi sa che in questa situazione se ci fosse una separazione quello che ci va a perdere di più è proprio lui infatti qui la sorpresa che lui vuole fare a voi è una sorpresa semplicemente a vantaggio suo perché la sorpresa in questo caso farebbe guadagnare semplicemente a lui il fatto che vi ha tolto di mezzo non è una sorpresa rivolta a voi ma sicuramente è un alleggerimento del suo stato d'animo e sicuramente lo porterebbe a non fare più lo stesso errore cioè ad avere una relazione extraconiugale chiamiamola così che lo potrebbe portare a perdere tutto ciò che ha in questo momento con la compagna la moglie attuale vediamo cosa ci dicono i tarocchi infatti eccolo qua tutto quello che lui tutto quello che lui ha guadagnato non lo vuole perdere assolutissimamente le carte parlano chiaro allora lui è come se avesse lavorato duro per dare inizio a questa relazione per dare inizio a questa situazione e sicuramente lui non ha nessunissima intenzione di perdere tutto quello che ha di perdere tutto ciò che è riuscito a guadagnarsi per dover poi ricominciare da capo e per dover poi rimboccarsi le maniche per raggiungere di nuovo quello che è riuscito ad avere adesso in questo momento lui a voi vi vede come un nemico vi vede come una forma di incatenamento a una situazione che lo fa stare veramente male infatti qui abbiamo a che fare con un uomo che lavora e ha lavorato tanto per raggiungere quello che ha e di sicuro non lo vuole perdere per voi per una infautuazione perché qui a livello di sentimenti qua io questo uomo non lo vedo innamorato né di di una né dell'altra vedo semplicemente che lui con questa moglie ci sta bene e sicuramente non vuole ricadere in disgrazia per una rivelazione l'amante eccolo qua per una rivelazione dell'amante che lo porterebbe a perdere la costanza che ha perciò qui le carte sono state molto chiare quest'uomo è un uomo già impegnato un uomo impegnato che sicuramente a voi presto tardi darà questo messaggio che ha intenzione di rompere questa relazione il fatto che rompe la relazione lo fa semplicemente per una questione economica e di agiatezza perché magari la moglie non gli dà problematiche a livello né economico ma neanche caratteriale e quello che siete stato voi quelle che siete state voi è stata semplicemente chiamiamola una relazione estiva dato che l'estate è già finita sicuramente non vuole perdere quello che lui è riuscito ad acquisire con il duro lavoro diciamo che ha fatto nella sua nella sua vita lui intende sicuramente è un uomo giovane bruno sta bene economicamente è proprio adagiato nella sua stabilità e sicuramente non si vuole trovare a dover dire tutta la verità su questa relazione fortuita che a lui ha avuto perché non ha intenzione di rivelare a nessuno di avere un amante perché questo per lui sarebbe una disgrazia sarebbe la distruzione di tutto quello che lui in questo momento ha di certo perciò se voi chiedete come sta con l'altra sta troppo bene e a voi non vi pensa più anzi voi siete diventata un nemico siete diventata proprio un nemico da eliminare completamente per quanto gli riguarda voi dovete sparire dalla sua vita quando le carte sono così chiare non c'è altro da dire queste le rimettiamo e queste le possiamo togliere ok adesso andiamo con la seconda variante per le ragazze che hanno scelto la pietra rossa andiamo a vedere se ci dicono che tipo di uomo abbiamo davanti che tipo di personaggio è per poter magari avere uno spunto in più se la variante è giusta se vi ritrovate in questa variante o se la dovete cambiare allora diciamo che qui abbiamo due possibilità qui abbiamo due possibilità qui abbiamo a che fare con una persona molto giovane e con un uomo allora io presumo che qui abbiamo a che fare con un uomo giovane abbiamo a che fare con un uomo abbastanza giovane vediamo un po' aspettate un attimo che devo soltanto vedere capire una cosa diciamo che può essere un uomo giovane che di recente ha avuto un cambiamento un cambiamento in che senso un cambiamento magari nel lavoro un cambiamento magari nell'atteggiamento con voi potrebbe essere anche un cambiamento di casa oppure un cambiamento un trasferimento ecco basatevi su questi indizi prima di tutto e questo uomo questo uomo giovane o quantomeno se siete ragazzi questa donna giovane ecco che in questo momento ha avuto un cambiamento vi ha anche chiesto di avere un attimo di distacco avere un attimo di tempo per poter riflettere su alcune cose oppure vi ha potuto anche dire potrebbe anche essere rivolto a delle persone che hanno avuto a che fare con un uomo o una donna che gli ha chiesto un po' di tempo per sistemare le questioni di questo cambiamento e poi parlare della vostra relazione pensa con ottimismo alla tua vita amorosa pensare positivo e avere fiducia ti porteranno l'amore questa non è una carta tanto tanto positiva in questo caso perché le carte si devono vedere anche in base alla situazione questa persona giovane che sia uomo o donna che in questo momento o di recente abbia avuto un cambiamento lavorativo o di casa o trasferimento o di atteggiamento vi ha chiesto un po' di tempo perché deve riflettere su determinate cose e diciamo che in un certo senso vi ha dato magari un pochino di speranza perché ancora non è neanche lei sicura di quello che vuole fare il mondo grande successo sei libero di andare in qualsiasi direzione un percorso si completa perciò qua abbiamo la completezza di un percorso e l'inizio di un altro potrebbe essere anche la fine di questa relazione e l'inizio della vostra relazione con questa persona oppure della fine della relazione con voi e questa persona e per voi un nuovo inizio perché qui potrebbe anche significare che la persona a cui state rivolgendo il video io spero di essere sempre abbastanza chiara che la persona a cui voi state rivolgendo il video è una persona impegnata e allora vi ha chiesto un cambiamento vi ha chiesto un po' di tempo per concludere la relazione precedente per definire la relazione precedente e poter iniziare una vita con voi perciò i personaggi della seconda variante sono questi c'è un cambiamento nella vita di questa persona che a voi interessa vi ha chiesto un po' di tempo per definire una situazione questa situazione potrebbe essere che la persona è impegnata e deve chiudere definitivamente la relazione precedente oppure vi ha chiesto un po' di tempo perché vuole chiudere definitivamente la relazione con voi andiamo a vedere cosa ci dice la variante tu sei uscita troppo presto vediamo un po' qui abbiamo una situazione di tristezza una situazione di stanchezza una situazione di solitudine voi vi sentite molto ma molto giù vi sentite molto giù perché ancora non sapete diciamo come va a finire questa storia questo tempo di attesa che questa persona vi ha dato per definire le sue cose vi sta portando a un momento veramente di solitudine e di tristezza perché in questo momento voi vi sentite molto abbattuti e molto tristi diciamo che la vostra speranza è questa diciamo sorpresa che vi aspettate dal che vi aspettate da questa persona dalla relazione che avete con questa persona perché il vostro cuore è quello di uscire vittoriosi dal diciamo da tutta questa situazione la vostra il vostro pensiero sta nel fatto che questa persona un giorno venga e vi dica io ho preso la mia decisione e voglio stare con te ed ecco qua il pensiero che diciamo vi assilla il pensiero che voi avete in continuazione il pensiero che voi state sempre ad diciamo state sempre in attesa che questa persona vi vi comunichi la sua decisione e sicuramente la vostra decisione cioè la sua decisione voi vorreste che fosse quella di rimanere con voi o di ritornare da voi perciò in questo momento il vostro pensiero è semplicemente voi non vedete altro non vedete altro vedete semplicemente il pensiero sempre sempre in questa situazione attendete giorno dopo giorno che arrivi quel messaggio che squilli quel telefono o che vi sentite bussare alla porta del lui con le valigie ecco infatti qui abbiamo anche quest'altra carta che vi fa stare diciamo più che altro vi fa stare proprio in ansia vi fa stare proprio vi fa stare proprio male il pensiero perché poi non vedete l'ora che tutto si risolva volete la nascita di questo rapporto volete diciamo la gioia il piacere che lui torni da voi perché in questo momento lui è come se avesse fatto un cambiamento sia nei vostri confronti nei vostri confronti giustificandolo con un qualcosa che riguarda la sua vita un momento di cambiamento un cambiamento lavorativo un cambiamento di casa come ho spiegato prima e vi ha messo diciamo in stasi vi ha messo in pausa un attimo deve definire delle determinate cose e poi decidere diciamo che qui diciamo che le carte mi parlano di proposta di affari proposta di affari perciò potrebbe anche essere che parte di questo fermo di questo di questo giovane uomo sia legato a un a un cambiamento lavorativo potrebbe anche essere un cambiamento lavorativo che diciamo un progetto lavorativo che lo sta portando ad impiegare più tempo nelle varie decisioni che deve prendere nelle varie problematiche che deve risolvere e perciò diciamo che potrebbe anche essere non una questione sentimentale però potrebbe anche essere una questione lavorativa però 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 qua mi sa ragazzi amiche che c'è qualcun'altra signorina di mezzo perché qua abbiamo o un'amichetta che fa il doppio gioco oppure abbiamo una vera e propria rivale e perciò si può riferire al fatto che lui abbia delle questioni lavorative da risolvere però le carte mi fanno vedere anche che ci potrebbe essere anche per alcune di voi una situazione come spiegavo prima di sistemazione a livello diciamo sentimentale di qualche relazione precedente che potrebbe essere a vostro favore cioè che lui chiude la relazione precedente per stare con voi oppure a vostro sfavore perché lui è in una fase di decisione perché sta cercando di capire che cosa prova per l'una e per l'altra e cercare di capire se siete voi la donna con cui vuole stare oppure è l'altra qua per alcune può essere la situazione lavorativa per altre può essere un cambiamento di casa un trasferimento per alcune potrebbe anche essere un'altra donna vediamo un po' qui abbiamo un nuovo inizio abbiamo qualcosa che inizia qualcosa che è diciamo allora qui le carte mi fanno vedere che quest'uomo è come dire allora è in una fase di progettazione lui sta pensando tante tante cose lui sta creando nella sua mente i presupposti perché la sua vita sia completa perché la sua vita sia il più possibile perfetta e il più possibile adatta a lui oltretutto perché lui diciamo che un pochino pensa anche a se stesso diciamo che è una persona molto diciamo che è una persona affidabile e concreta però questo lo porta anche ad avere bisogno di vivere in un ambiente che gli porti una sicurezza economica una sicurezza di una casa e di una famiglia ben instaurata e di una concretezza economica ben stabile questo mi fa capire che magari lui in questo momento sta pensando alla famiglia sta pensando alle amicizie e sta pensando proprio a un appagamento suo però le carte non mi dicono altro qua mi fanno vedere che lui sta pensando a crearsi una stabilità proprio per se stesso diciamo che è un pochettino una persona molto narcisista ecco pensa molto a se stesso non è una persona che diciamo pensa anche al bene degli altri prima di tutto dice vengo io poi dice vengono gli altri allora voi in questo momento siete proprio in una fase molto molto giù qua mi parla di sospiri di lacrime state aspettando questo messaggio da quest'uomo in una maniera incredibile siete proprio chiuse in casa col cellulare in mano aspettando che quest'uomo vi mandi questo benedetto messaggio per sapere qual è la sua decisione ma qui la sua decisione la può sapere semplicemente lui in base alle questioni che ha in mano ma vi assicuro e vi posso dire che la decisione che prenderà sarà esclusivamente a vantaggio suo perciò ricapitolando se voi siete nella sfera della sua parte diciamo positiva che voi siete una persona che a lui lo fa stare bene e gli può portare semplicemente del bene allora il messaggio sarà positivo se voi verrete catalogate in quella sfera che a lui lo fa stare così così sicuramente con voi diciamo troncherà e rimarrà con l'altra perché qui un'altra mi diciamo mi esce perché voi come sta con l'altra sì come sta con l'altra potrebbe anche significare come sta non con una persona ma come sta con un'altra situazione con un altro modo di vivere va andiamo con la terza e ultima variante per chi ha scelto la pietra azzurra andiamo a vedere che tipo di ometto abbiamo qui ho perso in cina vediamo vediamo un pochino allora qui abbiamo a che fare con una persona che voi avete diciamo incontrato sicuramente avete incontrato tramite amici tramite magari anche parenti oppure nel lavoro sicuramente avete incontrato questa persona nella vita sociale questa persona che avete incontrato diciamo che è una persona abbastanza come dire non importante ma che ha successo in vari campi questo successo che ha questa persona in vari campi è dovuto al fatto che alle spalle di quest'uomo c'è una donna che potrebbe essere una madre una compagna più grande di lui oppure una nonna qualcuno che alle sue spalle lo ha portato ad essere quello che è oggi è riuscita a fargli avere una vita agiata a fargli avere un discreto successo nel lavoro un discreto successo economico e lui diciamo che economicamente sta bene lavorativamente sta bene però alle spalle di quest'uomo c'è questa donna potrebbe essere anche una moglie una compagna più grande come potrebbe essere una madre una sorella più grande una zia qualcuno che diciamo sa come muovere i fili di quest'uomo infatti secondo le regole lui si comporta sempre secondo le regole che gli sono state impartite da questa donna che gli sono state inculcate non va al di fuori diciamo della linea di confine perché sa che poi verrebbe ripreso e potrebbe anche perdere quello che ha adesso fai uno sforzo per il grande amore vale la pena di compiere i passi che ti vengono indicati questo già non mi piace è la luna potente illuminazione lasciandare le preoccupazioni e le paure comprensioni va bene allora diciamo che qui abbiamo una situazione un pochettino particolare in che senso le carte mi dicono già quello che vi ho spiegato questa è una persona che voi avete incontrato nella vita sociale attraverso amici parenti lavoro oppure conoscenti in comune quest'uomo o questa persona ha un discreto successo sia nel lavoro sia nella società ed è una persona che alle sue spalle voi se non lo sapete ma lo saprete o lo potete scoprire questa persona alle sue spalle ha una donna di una certa rilevanza di una certa importanza nella sua vita che può essere una madre può essere una moglie una compagna più grande può essere una sorella più grande può essere qualcuno proprio legato a lui risumo proprio della sua famiglia oppure come dicevo prima una compagna una moglie di età più grande che gli ha dato è riuscita a fargli fare la strada giusta per farlo arrivare dov'è adesso lui si comporta secondo le regole in che senso lui fa uno sforzo per comportarsi come lei desidera anche inconsciamente anche se lei non gli dice niente però lui sa che si deve comportare in un certo modo per farla contenta per esaudire i suoi desideri e per fare in modo che tutto questo benessere non finisca questo che cosa che cosa comporta la carta della luna mi dice che lui magari quando è non con lei si fa vedere in un modo diverso invece quando poi sa di essere controllato cambia atteggiamento fa uno sforzo per comportarsi sempre come lei desidera e questa è una situazione un pochettino di chiamiamola così falsità perché lui non sarà mai guardate è uscito il bambino non sarà mai diciamo una persona spontanea diciamo così ma sarà sempre guidato dai fili di questa donna io spiego queste caratteristiche queste caratteristiche in modo che le ragazze che mi seguono o i ragazzi o le persone che mi seguono capiscano con che tipo di persona abbiamo a che fare che tipo di comportamento come sta con l'altra l'altra si intende o una relazione oppure una situazione anche che li porta lontano da voi qui voi avete una speranza qui avete la speranza siete una giovane donna sicuramente una giovane persona quello che sia un giovane ragazzo sicuramente avete la speranza che qualcosa possa cambiare perché forse avete intuito che c'è tutto questo parapiglia in questa famiglia però la vostra speranza diciamo è che la situazione possa cambiare infatti perfetto la vostra speranza è che proprio la situazione di questo giovane possa cambiare e ci sia proprio la la completa separazione da questa donna la completa diciamo morte di questa relazione con questa donna affinché voi possiate adentrare nella vita di quest'uomo diciamo che questa è la speranza che avete voi la speranza di un cambiamento proprio radicale nel modo di comportarsi di lui o nel modo di lei di tenerlo al guinzaio diciamo che qui non vedo grandi cambiamenti perché non vedo grandi cambiamenti perché lui lui involontariamente ci sta bene in questa situazione perché a lui non manca niente lui non ha problemi di niente non gli manca niente perciò dice ma perché io me ne devo andare perché io devo cambiare diciamo che ci potrebbe essere una novità ci potrebbe essere una telefonata ci potrebbe essere anche qualche cambiamento in futuro ma dobbiamo andare a capire che tipo di di cambiamento ci può essere nella vita diciamo di quest'uomo perché in questo momento lui sta bene lui in una fase di tranquillità qui mi porta fortuna e abbondanza fortuna e abbondanza perché diciamo che la sua fortuna è proprio questa situazione in cui lui vive perché non gli manca niente può fare quello che vuole ecco basta che lui si comporta in un determinato modo lui può fare quello che vuole differentemente sarebbe se lui si comportasse in modo diverso perché se lui cambia modo di fare se lui cambia modo di fare modo di comportarsi la fortuna diventa contrasti e dispiaceri e finisce la tranquillità che ha in questo momento a voi sicuramente in questo momento vi porta tristezza ansietà e dispiaceri perché non vedete questo cambiamento in quest'uomo vedete semplicemente nel vostro cuore la speranza che appunto questa situazione cambi ma di contro avete quest'uomo che sta talmente bene nella situazione in cui lui basta che si comporta in quel determinato modo che segue le linee guida di questa donna e quello che lui vuole non gli manca di sicuro infatti vedete qua lui gioca perché sa perfettamente che quello che fa eccolo qua lui non prenderà mai una decisione a occhi bendati lui la decisione non la prenderà mai per diciamo buttarsi nel vuoto a lui gli piace questa situazione di giocosità perché fa un po' uno e un po' l'altro sa sicuramente quale corde tirare per calmare questa donna e questa decisione lui a occhi bendati cioè buttarsi lo sbaraglio lui proprio non lo farà mai perché questo qua è un io dico sempre che le catte si chiamano uno con l'altro questo qua ragazzi mie è un re di denari un re di denari è concreto un re di denari ha tutto quello che gli serve il re di denari è diciamo come dire è è concreto è affidabile è un costruttore lui tutto quello che ha costruito sicuramente non lo va a sfasciare per una donna capite ecco qua lui non va a rovinare quello che è riuscito a creare con l'aiuto di questa donna anziana per un'altra donna assolutissimamente no lui rimarrà sempre a giocare con con queste a giocare con queste situazioni così un po' alti e bassi un po' la fa stare calma un po' ogni tanto diciamo esce fuori dalle righe fa un pochino quello che vuole tenta di fare quello che vuole lei lo rimette a posto lui gli fa due moine due discussioni due cosine e tutto torna come prima giovane bruno gelosia perché lei è molto gelosa questa donna questa donna è molto gelosa allora siccome mi esce l'uomo di legge per vedere è giovane bruno allora l'uomo di legge mi fa pensare che questa potrebbe essere sicuramente o una madre che potrebbe togliere tutto il figlio e diseredarlo in poche parole oppure potrebbe essere anche una moglie una compagna abbastanza gelosa abbastanza gelosa che appena avete le cose sbagliate di come si comporta il giovane bruno cioè l'uomo che ha in pugno ecco che diciamo lo mette lo mette in riga però sicuramente lui non perderà mai quello che ha lui quello che ha costruito grazie a questa donna chi che sia sicuramente non lo va a perdere e a rovinare per un'altra donna assolutissimamente no perciò mettetevi il cuore in pace che se voi volete stare con questa persona dovete anche voi incanalarvi nel tunnel della donna anziana dovete anche voi essere una marionetta e fare buon viso a cattivo gioco a quello che lei decide che voi due facciate bene eccoci giunti alla fine di questo video io vi ringrazio per averlo visto fino in fondo se vi è piaciuto lasciatemi un like e iscrivetevi al canale il mio indirizzo lo trovate giù nelle info ogni tanto apparirà durante il video per chi volesse contattarmi in privato io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo alla prossima e ci vediamo